Non li conoscevamo, è stato un trauma per tutti, per tutta la comunità. Mi dispiace molto, e parlo a nome di Fimicello, quando dico che gli siamo vicini, ci dispiace. La famiglia di Giulio Regeni ha pagato un prezzo enorme, la comunità di Fimicello ha pagato un prezzo enorme. Vogliamo che tutti si rimbocchino le maniche, vogliamo che tutti a qualsiasi livello si rimbocchino le maniche per portare chiarezza su cosa è successo su questo tragico evento. Noi siamo indignati, noi vogliamo capire quanto è accaduto, noi vogliamo che i pensieri di Giulio non vengano smarriti nel vento. Giulio lottava per un tema nel momento in cui è morto. Noi chiediamo con forza che tutte le operazioni di cooperazione economica internazionale si avviano solo con quei paesi che avviano seri processi di tutela dei diritti della salute dei lavoratori.